Andi questi bigliettini, tu ti amo, vai caro, mi raccomando eh, bombarda di fiori. Civil Week 2024, siamo a Cassina De Pecchi con l'associazione LPK. Esatto, ciao. Cosa fate per questa Civil Week, che progetti avete e che cosa vi aspettate? Noi oggi in realtà siamo qui ospiti di un'iniziativa più grande che è sponsorizzata da Macramè, che è una rete di cooperative che collaborano sul territorio per accordarsi su vari fronti che riguardano il terzo settore. Noi siamo una cooperativa che ha la sede legale a Pozzo d'Adda, ma poi opera con diversi settori su tutto il territorio. Abbiamo un'area destinata ai migranti, un'area destinata all'infanzia e un'area ai disabili. Dato che per questa giornata era stato chiesto, in base alle competenze di ogni cooperativa, di offrire qualcosa alla collettività, noi abbiamo deciso di partecipare con un laboratorio di bombe di semi per bambini. Quindi anche l'inclusione dei più piccoli. Assolutamente. E cosa avete realizzato qua oggi? Abbiamo realizzato bombe di semi. Praticamente sono bombette di argilla, terriccio e semi, come si può vedere qui, per api, quelli utilizzati oggi, da poi spargere nei territori incolti dai bambini per poter far crescere e riempire il mondo di fiori spontanei. Sì, quindi anche un'attenzione particolare per l'ambiente. Assolutamente, l'intenzione è anche quella. Sì, sì, sì. Che meraviglia, grazie mille e buona Sibyl Week. Grazie a voi, grazie, ciao.